In Commissione Cultura è stato discusso stamane l'accordo fra il Museo Archeologico Nazionale di Napoli e il Comune di Comacchio, siglato lo scorso 20 luglio, che prevede il prestito gratuito di reperti provenienti da Pompei, Ercolano e dalla Magna Grecia all'istituzione Emiliana, che allestirà così un suo piccolo museo. I beni provengono dai depositi dell'archeologico napoletano e non sono quindi al momento esposti al pubblico. L'accordo prevede un prestito per due anni rinnovabili. Il documento ha suscitato la reazione di alcune associazioni partenopee che si oppongono al trasferimento dei reperti, fra le voci di protesta anche quella dell'ex consigliere comunale Antonio Luongo. Il dottor Paolo Giuliarini, che quando è venuto a Napoli ha promesso di esporre temporaneamente tutte le opere che erano nei sotterranei, non ha mantenuto questa promessa. Io parlo in termini di città metropolitana, non solo in termini di città di cittadina napoletana e dico noi abbiamo due musei chiusi nella città di Ercolano, tra l'altro è la città da cui provengono la maggior parte dei beni che sono al di sotto del Man, nei sotterranei del Man. Bene, perché non pensiamo a fare grandi esposizioni, a rendere possibile questi musei piuttosto che mandarli a costo zero altrove col pericolo che non tornino più. Nella prossima commissione saranno ascoltate alcune associazioni del territorio anche per confrontarsi sulla possibilità di proposte operative.